Darwin! Che è successo? Dove sono? Chi sono? A casa? Come torno? Cos'è la vita? Ok, ok, calmati. Mi hanno scaricato. Sono in mare, mi chiamo Darwin. Non so come tornare e la vita è ciò che ti crei. Tutto a posto. Oh no, mi sono perso. Mi serve aiuto. Come faccio a tornare a Elmore? Oh giusto, voi parlate pescese. Come fa a tornare a Elmore? Wow, 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 fammi capire bene. Tua madre è un gatto, tuo padre è un coniglio e tu sei il figlio. Oh, mi hanno comprato da un furgoncino. E dove ti hanno scaricato? Nel water. È una tazza dove ci si siede per... Capito? E sono finito qui perché gli scarichi conducono al mare. Comunque grazie per avermi mostrato la terraferma. Sì, ma i pesci non sopravvivono sulla terra. Troverò un modo. L'amore trova sempre un modo. Oggi hai detto tante cose assurde. Ma questa è proprio la più stupida. Non puoi sopravvivere fuori dall'acqua. No, no, è un'altra scelta. Ce la può fare. Eh, forse no. Capisco la tua tristezza, tesoro, ma forse è il momento di... No! Al suo ritorno gli servirà. Ah, Gumball. So che sta cercando di tornare. Riesco a sentirlo qui. Nel tuo stomaco? Nel suo cuore non tutti hanno uno stomaco grande quanto il petto. Torna a casa, amico. Io ho fiducia in te. Io ho fiducia in te. Io ho fiducia in te. Me l'avevo detto! È stato un piacere conoscervi, ma ora devo cominciare il mio incredibile viaggio per tornare dalla mia famiglia. Addio! Ciao! 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 Grazie.